E bello a tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro velo, oggi siamo sempre qui con il nostro magico Torino e che dire, nell'ultimo episodio ci siamo lasciati con una trattativa in sospeso, una trattativa da fare secondo me per mantenere quello che è il realismo di questa carriera quindi andrei a trattare con il Bayern Monaco per vedere se riusciamo a strappare qualche milioncino in più visto che il gioco ci dice che possiamo trattare fino ai 45 andiamo a vedere un po' cosa riusciamo a tirare fuori da questa trattativa 40 tondi, 36 vediamo di spingerci 39 3 milioni che sono, infatti accettano l'offerta per Lukic 39 milioni, direi un'offerta più che realistica anche per comunque dare una chance, un'opportunità a questo giocatore di sbocciare ed ecco qua che abbiamo venduto Lukic per 39 milioni mi fa un po' male il cuore a vederlo andare via così ma diciamo che i sostituti ce li abbiamo allora innanzitutto la prima trattativa che volevo fare è perché è in scadenza è Dalot che mi avete detto che è molto forte, è in scadenza, provo a vedere se vogliono voi Voda e proviamo a fare questo cambio anche perché conviene sia a livello d'età che lui sa comunque ricoprire tutti e due i ruoli ne vediamo cosa riusciamo a tirarne fuori arrivano sempre sul prezzo del loro cartellino, non sembra che vogliono svenderlo proverei 20 e mezzo io tiro un po' la corda perché non è una priorità quindi voglio vedere fin quanto sono disposti a scendere la priorità invece adesso è il centrocampista il centrocampista che avevo pensato di allora come cambio con gli Ancto pensavo a Quaresma altro giovane che mi avete consigliato che sta crescendo a cannone mentre per il centrocampo è indeciso tra Guminares che però vedo che se lo sta già per prendere la Roma tra Lusa che secondo me non è mica male quindi questi sono un po' i nomi per il centrocampo allora vediamo un po' Guminares secondo me costa tanto e non riusciamo a prendercelo lui visto che sa fare anche più ruoli magari riusciamo a strapparlo per la stessa cifra a cui abbiamo venduto Lukic quindi direi di provare magari spostiamo Bernassar titolare e lui diventa una riserva accettato senza battere ciglio quindi mi diceva comunque che era quella la sua cifra quindi io procederei con la trattativa andiamo a fargli il contratto e abbiamo già trovato il sostituto per Lukic perfetto ragazzi l'abbiamo preso gli abbiamo dato anche un ruolo importante così da non rompere diciamo quelle che sono le gerarchie proverei a metterlo prima riserva per vedere un po' come si comporta per non schiararlo subito titolare e poi vediamo un po' ricordiamo che qua abbiamo sempre i nostri giovani che crescono quindi direi di sì adesso l'altra trattativa da fare è quella con gli Ancto che direi di togliercela subito ho chiesto un difensore italiano mi avete consigliato Luperto però Luperto non mi piace più che altro perché non ha un overall così alto quindi adesso che mi ricordo non prenderei quaresma aspetterei ancora qualche vostro consiglio magari e direi adesso di andare a giocare questa prima partita che è proprio un big match ai vertici di questa classifica contro la Roma però sappiamo tutti quanto è forte la Roma su questo gioco quindi direi di non aggiungere altro e ci vediamo in campo ed ecco qua è tutto pronto comincia Roma-Torino vediamo un po' cosa saprà tirare fuori la nostra formazione contro questa Roma che sembra a dir poco inarrestabile finora in campionato non ne ha persa né pareggiata o ancora no forse ha pareggiato solo una il resto le ha tutte vinte vediamo se attenzione qua subito vedo dei buchi però clamorosi possiamo approfittarne con Adeyemi 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 prova a fare un movimento ma chiude bene la difesa qua brutto intervento di Dominguez ma fortunatamente l'arbitro non ammunisce neanche ma sarà punizione per la Roma attenzione dalle palle inattive che possono tirare fuori brutte sorprese ma qua riusciamo a spazzare attenzione qui attenzione qui della Cruz mamma mia della Cruz può andarsene Smalling non gli può star dietro della Cruz ottimo il suo recupero della Cruz fino in fondo della Cruz mamma mia che giocatore signori sta veramente esplodendo in questa parte in questa prima parte del campionato della Cruz finora non era stato cioè si era un po' diciamo nascosto non era mai stato al centro delle nostre attenzioni ma adesso qua recupera un ottimo pallone una difesa un po' che dorme e Della Cruz micidiale scappa via tutti e punisce la Roma c'è qua la Roma in avanti no vabbè dai raga un altro rigore ma io non posso commentarli questi rigori cioè come li sfiori in aria ai rigori a parte da un'altra ora è fisso dall'anno scorso cioè cos'è si sono scontrati in aria vabbè vediamo un po' Gio Pedro contro Maximenco che non ci arriva la piazza benissimo Gio Pedro riporta la situazione sulla parità ma veramente un rigore boh se ne è qua adesso però subito la Roma vuole andarsene in vantaggio ma come di Tau fa un'ottima chiusura può lanciare Ben Nasser che vede lo scatto perfetto di De Jemi De Jemi può controllarla De Jemi a De Jemi si ferma bene con una finta la mette per no no oddio l'ha rifatto regà l'ha rifatto l'ha rifatto l'ha rifatto ma non mi sto svenendo sto svenendo questo mamma mia per un attimo ho detto no la parata del portiere ma Borre di nuovo il rovesciata la butta dentro qua molta fortuna non impeccabile il portiere Paolo Lopez che fa possiamo dire una papera una vera e propria papera ma Borre il gesto tecnico comunque rimane ci riporta in vantaggio 2 a 1 Toro la Roma subito con Spinazzola tutti i altri siamo devono proprio segnare quando portano queste azioni è incredibile 2 a 2 guardate la mia squadra guardate come l'ha ampiezzata un disagio non si capisce più niente nessuno era in posizione questo ovviamente subito deve deve aggiustare tutto FIFA e torna la parità su questa partita che mamma mia veramente finora non ci sta proprio risparmiando sfortuna su sfortuna perché un rigolo è regalato quest'azione che partano dritto per dritti e segnano ma va bene noi dobbiamo essere più forti di FIFA se ne qua ancora Spinazzola Spinazzola provate ad andarsene ma tra ore recupera se ne qua Ben Nasser mette un bellissimo pallone per Dela Cruz Dela Cruz che può controllare Dela Cruz che se ne va così al primo difensore può vedere Borre c'è Borre Borre che può incrociare e si torna mamma mia 3 a 2 che partita signori 5 gol in 35 minuti non è normale non è proprio normale ma qua movimenti ottimi da parte nostra là davanti e la Roma non ne può nulla con la sua difesa a 3 ce li siamo mangiati tutti a colazione e Borre ovviamente figurati se sbaglia attenzione qua però Dominguez subito non è anche il tempo di finire un'azione Dominguez Dominguez prova a andarsene un po' via tutti qua la tiene ancora Dela Cruz ancora Dominguez Dominguez fuori una finta può guardarsi in mezzo la palla rimane lì Benassera addirittura al volo para però Paolo Lopez Perez che controlla bene Militao su di lui Cacaccio che ci sposta centrale attenzione ad Amadam Trorè mamma mia Militao ovunque insuperabile qua adesso può partire Dela Cruz che la riserve per Borre al centro che vede il taglio di Deiemi a Deiemi non perderla qua prova fare un numero ma non riesce finisce qui il primo tempo 3 a 2 Toro una partita veramente sofferta sofferta perché gli episodi sono tutti a sfavore nostro ma fortunatamente riusciamo a tenere duro e a continuare a fare ottime prestazioni davanti con un Borre strepitoso un Dela Cruz che si è veramente svegliato mamma mia in qua subito ma no vabbè Borre Borre è di un'altra categoria no no rega l'altro hanno messo le terze maglie no aveva fatto tutto benissimo e niente ovviamente qua sempre è buggato ma va bene così aveva fatto tutto benissimo mamma mia un mostro comunque cresce a vista d'occhio 87 ma tipo tra una settimana è già 88 quindi non so più che aggettivi usare per questo giocatore e qua gioco Pedro chiaramente il pallone per Pedro può andare Pedro a spazio Ben Nasser in copertura Ben Nasser prova a coprire questo esterno ma fa fallo sarà ancora punizione vediamo se gli deve regalare un altro calcio di rigore oppure devono trovare questo pareggio no chiude bene la difesa però ancora Roma con Diavara Carles Perez Perez prova a portargli via palla ma niente guarda qua che palla in mezzo mamma mia chiude bene Tomori su Paoligno recupera qua Maximenco ma che brivido non è qua la Roma che attacca in cinque uomini sono tutti qua davanti Adamatraorè Diavara attenzione Adamatraorè attenzione questi scambi non si capisce più niente Gio Pedro ma voi voda compie un salvataggio incredibile oddio qua Cacace prova rischia di perdere il pallone in maniera abbastanza imbarazzante guarda quanti sono quanto sono alti regà quanto sono alti qua dobbiamo provare con i lanci lunghi lanci lunghi e pedalare guarda qua che palletta per Dela Cruz guarda che palletta per Dela Cruz che la mette in mezzo per Borre mamma mia che chiusura però la difesa recupera un pallone incredibile qua Dominguez che cambio di gioco attenzione può fare tutto di prima bella questa palla per a degli emi no porca vacca strappare e traverse che azione che era nera uscita attenzione qua ancora trore per Borre che ormai sa solo segnare in rovesciata finisce qui comunque la partita 3 a 2 Toro una partita veramente che è completamente contro di noi qua imbarazzante ancora questo bug però va bene la Roma oggettivamente è stata molto aiutata secondo me in questa partita e noi ce lo siamo strameritati perché loro hanno creato ben poco noi abbiamo giocato stra bene un Borre devastante tanto qua l'Everton ci chiede il Young in prestito a breve termine ma ovviamente rifiutiamo perché Young noi siamo solo disposti a cederlo e qua ci chiedono una risposta una risposta che sinceramente rega io accetto accetto perché è un grande acquisto era in scadenza ovviamente quindi l'abbiamo preso anche a poco delegherei qui tanto non è urgente che arrivi e vediamo un po' che offerta arriva prima metto anche in questo punto voi voda sul mercato e ho messo anche l'Amte in prestito vediamo chi cioè quale offerta arriva prima delle due ah qua Young in prestito no mettiamolo in trasferimenti ok a posto e adesso direi di andare alla partita con l'Udinese in Coppa Italia che allora vediamo un attimo il calendario quindi direi di simulare questa con l'Udinese con i titolari simulare questa con le riserve o viceversa no perché alla Coppa Italia ci tengo mentre in campionato possiamo stare più tranquilli e andare a giocare poi col col Bologna e direi di chiudere comunque lì l'episodio quindi qua simuliamo veloce vediamo un po' se il gioco ci deve fare gli scherzi della Coppa Italia no vinciamo 3 a 1 Ben Nasser segnano Ben Nasser Borré e De La Cruz ormai immancabili questi due perni difensivi intanto Lazio Benevento 4 a 5 per il Benevento ok ok risultati incredibili qua Dalo ci accetta l'offerta quindi ovviamente è un nuovo giocatore del Torino secondo me acquisto perfetto ok non so ditemi voi regà perché ci sarebbe anche Aina ma andiamo vediamo adesso mi è venuta in mente una cosa sensazionale ma andiamo Gasperoni in prestito trasformiamo Aina allora seguitemi un po' trasformiamo Voivoda terzino sinistro lo rimuoviamo sia dai prestiti che da qui vediamo quanto ci mette Aina a diventare AD posso trovarlo ovviamente più giù Aina non lo trovo eccolo qua piano di crescita può fare TD e DS ovviamente per diventare AD ci metterà tipo 600.000 anni andiamo un po' 18 quindi facciamo diventare Aina AD così lo spostiamo più avanti e seguo anche quello che è il vostro consiglio e andiamo a accettare l'offerta che ci è arrivata per Gasperoni secondo me questo tipo di come l'abbiamo gestita è la soluzione migliore così abbiamo anche una squadra delle riserve che sta diventando veramente una signora squadra delle riserve l'unico punto adesso da 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 migliorare rimane Liancto al quale però vorrei sostituire quello che è un difensore come vi ho come vi ho già detto italiano che può essere anche Barba adesso che lo vedo lì come proposta intanto andiamo qua offerte ricevute allora per Gasperoni prestito secco io lo accetterei e per De La Cruz sempre nelle vostre mani mi affido completamente a voi e direi che qua questa partita possiamo andarla a simulare anche questa veloce vediamo che risultato ne esce fuori anche se ho paura però siamo in casa 1 a 1 ovviamente giusto dovevano per forza farci pareggiare però loro hanno creato quindi un pareggio che tutto sommato ci sta stasera segnato è poi stato espulso e lo spezia vince contro l'Inter quindi possiamo essere più che soddisfatti se questa giornata è andata a finire come abbiamo visto quindi perfetto Gasperoni è andato in prestito qua ci chiedono Joachim Jimenez prestito perfetto accettiamo anche per lui la De La Cruz può aspettare per Montiel Leverton se lo può pure prendere tanto a livello di terzi noi ormai siamo belli che a posto adesso abbiamo qua la partita col Bologna e poi c'è il derby che però andremo a giocare nel prossimo episodio qua col Bologna ovviamente non so se giocare con le riserve con i titolari direi che farò un mix perché poi ci aspetta la partita contro la Juve intanto c'è Janoglu torna Leverkusen e poi direi di andarla a simulare non in maniera veloce ma nell'altro modo così se c'è bisogno entriamo in campo ok le squadre stanno scendendo in campo abbiamo parte qui Bologna Torino vediamo un po' cosa ne uscirà da questa partita abbiamo Sirigo ovviamente contro quindi ho già paura che non segneremo mai ed è partita vediamo un po' questa simulazione come andrà attenzione attenzione lì tiro gol e figurati e figurati dobbiamo per forza giocarla vabbè ci sta ci sta ci sta ho fatto comunque un paio di ho messo un po' le riserve un po' no però prendiamo gol in maniera un po' stupida devo dire attenzione qui adesso però noi dobbiamo darci una svegliata dopo il gol subito e qua ci proviamo subito combo re però non ci arriva perché Adeyemi non serve un buon pallone recupera Sirigo un Bologna che sta giocando veramente bene qua però Milita ovviamente non si supera perché se se la controllo io sta squadra è tutto un altro vedere Dominguez che è l'ex di turno quindi potremmo anche sfruttare questa cosa qua Borre si addormenta un attimo ma ritorna cattivissimo sul pallone attenzione può cercare ovviamente Adeyemi in mezzo che prova una finta una doppia finta niente non casca però il difensore ma ancora noi con Voivoda Pessina Pessina allarga per Traore e mette un pallone sublime ma capisce ancora la difesa può ripartire il Bologna attenzione qua una ripartenza perfetta qua Voivoda deve andare in chiusura attenzione a Ikei Battalini attenzione Battalini infermabili mamma mia mamma mia mamma mia ci siamo salvati grazie a un Militao lì che va in uscita pazza contro quel tiro primo tempo meritato da parte loro io ovviamente sono subentrato vista la situazione di difficoltà che ho riscontrato ed è una di quelle partite un po' strane questa quindi non so come andrà a finire sinceramente non sono molto ottimista perché sto Bologna è veramente forte adesso proviamo ma nulla una difesa perfetta fino ad ora la loro che chiusura di Voivoda Tomori però non ci arriva di testa ancora loro con Ikei ancora qua con Battalini che la mette bene dietro ancora Militao provvidenziale attenzione qua ancora Militao mamma mia però come stanno giocando loro come stanno giocando loro attenzione però qua noi riusciamo a uscirne in maniera ottimale può volare Traore 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 che se ne va benissimo a tutti che finta sul difensore mamma mia l'attimo di silenzio perfetto per vedere se riusciva a chiudermi la finta e brucia Sirigu sul primo palo riportiamo la situazione di parità qua una botta di culo clamorosa su ripartenza abbiamo trovato degli spazi ottimi e Traore implacabile sottoporta riesce a firmare questo pareggio che però spero duri anche perché loro nonostante ciò continuano ad attaccare imperterriti attenzione qui al buco Medel si gira benissimo qua proviamo a chiudere un po' tutti mamma mia buttatevi a sto pallone per favore attenzione qui Pessina che se ne va benissimo serve per Borré però poco movimento vede però dall'altro lato un Traore abbastanza libero può gestirla lui servire il taglio perfetto di Adeyemi che può restituire il favore ma ovviamente non va con Ikei mamma mia come se ne è andato Ikei qui Militao ancora ancora Militao ciò che può mettere dentro della Cruz magari da quel crack che si arriva a questa partita per risolverla entra anche Palassio ancora che gioca Palassio avrà non so quanti anni ma ora visto che l'ho detto dovrà segnarci via la boccia mamma mia qua che rischi giocate così nello stretto della Cruz prova a volare sulla fascia della Cruz può passare per il mezzo da Dominguez Dominguez vede dall'altro lato liberissimo Kakace che può lanciare la sua volta Borlet che può chiudere il triangolo con Doku 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 prova a guardarsi in mezzo a vedere se arriva della Cruz da dietro attenzione Ikei però spazza e concede il calcio d'angolo Dominguez c'è Borre di testa ma viene chiuso bene insieme che Doku non è altissimo infatti recuperano l'oro insieme qua il Bologna in questi ultimi minuti prova l'ultimo a fondo quello della Beffa attenzione che li vedo abbastanza scatenati attenzione mamma mia l'ha perso l'Itomori oddio oddio ho sbagliato ho la parata Maximenko non lo so penso spero che l'abbia parata Maximenko per non far vergognare troppo l'attaccante però finisce qui un pareggio scomodo perché loro cioè noi non abbiamo fatto nulla se la sono completamente meritata anzi forse si meritavano di più e che dire anche questo episodio di oggi è finito la prossima partita saranno i quarti di finale di Coppa contro la Juve quindi non potete mancare neanche nel prossimo episodio ma non potete mancare mai perché questa carriera sta regalando veramente delle delle prestazioni incredibili qua attenzione arriva l'offerta per l'Iancto che poi andremo a fare anche questa nel prossimo episodio un episodio veramente bello per la vittoria con la Roma anche con l'Udinese con la simulazione gli ultimi due pareggi mi hanno fatto un po' storcere il naso ma rimaniamo concentrati su quelli che sono gli obiettivi il campionato va comunque bene non è troppo non si è troppo aggravata la situazione nonostante questi due pareggi adesso abbiamo Juve Atalanta Lazio e Napoli e poi ci muovono l'Europa col Fosburg quindi quattro partite veramente no cinque partite veramente di fuoco e dovremmo saperle gestire gestire proprio bene e che dire se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace un commento lasciatemi tutti i nomi per questo calciomercato sotto nei commenti vi ricordo che prevalentemente mi serve quello che è un difensore centrale al posto di Liancto se possibile italiano se no non importa e dal vostro velo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video bella grazie a tutti i nostri